La Confcommercio di Lucca raddoppia. È stata infatti inaugurata la sede via regina dell'Associazione, una struttura gemella a quella di Lucca. La scelta di Confcommercio di investire così tanto a servizio delle imprese costiere sottolinea come questo comparto sia giudicato strategico dall'Associazione per l'intero territorio provinciale. Nella sede di via Repaci saranno disponibili tutti i servizi già presenti nella sede centrale di Lucca, dal credito alla formazione dalle Nasco alle buste paga fino ai sindacati di categoria. Siamo qui per consegnare questa sede a tutti gli imprenditori della Versilia, quindi questa è la loro casa, la loro sede e noi siamo, cioè la Confcommercio è qui per aiutare in tutte le maniere sia in chiave sindacale sia in chiave di sviluppo e di promozione. Questo è il nostro volere di essere qui oggi. All'inaugurazione era presente anche il direttore generale di Confcommercio Francesco Rivolta che descrive così l'andamento della situazione economica attuale. Abbiamo una situazione sicuramente molto difficile. Oggi in modo particolare stiamo cercando di seguire il provvedimento di stabilità che il governo ha presentato al Parlamento. Noi riteniamo che questa debba essere un'occasione molto forte per dare una svolta e per portare il Paese fuori dalla crisi. Siamo stati molto critici su questo provvedimento del governo perché riteniamo che in questo momento occorra un atto di forte coraggio e quindi di forti investimenti sull'impresa perché c'è una sola condizione per far uscire il Paese dalla crisi. Investire sull'impresa, ritenendo l'impresa oggi l'unica leva di sviluppo economico del Paese.